Si è svolto a Roma il giubileo del cinquantesimo anniversario dell'istituzione del Consiglio delle Conferenze Episcopali d'Europa, che ha visto la partecipazione di cardinali e vescovi giunti nella capitale italiana da tutte le parti del vecchio continente. Nell'occasione è stato conferito dal Consiglio delle Conferenze Episcopali d'Europa, all'orafo calabrese Michele Affidato, l'incarico di realizzare le opere per l'evento. Si tratta di bassorilievi in argento realizzati completamente in mano e dipinti con smalti a fuoco e foglie in oro che raffigurano i sei santi patroni d'Europa, Santa Teresa Benedetta della Croce, Santa Caterina da Siena, Santa Brigida di Svezia, San Benedetto da Norcia e Santi Cirillo e Metodio. Al centro del bassorilievo è rappresentato il mistero della Trinità, dell'incarnazione e l'evangelizzazione dell'Europa con i santi ritratti in atto di preghiera che glorificano la beata e beatificante Trinità. La splendida effigie è stata donata a Papa Francesco al termine della celebrazione eucaristica all'interno della Basilica Vaticana per mano del maestro orafo Michele Affidato. Un altro basso rilievo è stato donato al Papa Emerito Benedetto XVI durante l'udienza che ha concesso per questo giubileo alla Presidenza del Consiglio e a diversi cardinali e vescovi presenti. Successivamente tutti i membri del Consiglio hanno incontrato al Quirinale il Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, e nell'occasione è stata donata dalla Cardinale Gualtiero Bassetti, Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, e a don Antonio Ammirati l'icona realizzata dell'azienda Michele Affidato. «È stata una grande gioia per la mia azienda realizzare queste opere per il Consiglio delle Conferenze Episcopali d'Europa. Come credente e come artista sono molto onorato di aver ricevuto questo incarico», ha affermato Michele Affidato. «Non nascondo la mia emozione per aver incontrato Papa Francesco e il Presidente Mattarella insieme ai cardinali e vescovi di tutta Europa». «Non nascondo la mia emozione per aver incontrato Papa Francesco»